Peggy 16 Avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. Non è come sembra. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Ok, è nato per questo. Ci sarà un altro modo. Qui ho bisogno di te. Sam! Sam! Uncharted 4. Solo su PlayStation 4. For the players.